concedersi lo spazio per ballare come ci si concede lo spazio per piangere l'equilibrio sta nel capire che entrambi i gesti sono necessari i benefici dell'olio essenziale di cedro rosso o sederwood risalgono ai tempi più antichi il suo profumo avvolgente da una forza e sicurezza interiore il suo profumo purifica l'ambiente e aiuta a gestire le situazioni più difficili rosso è un potente alleato per comprendere la forza e il valore della comunità e del vivere con gli altri ora vi racconterò una piccola magia che può fare il nostro cedro rosso usatela in un diffusore sette gocce andrà a riammonizzare le energie di più persone che lavorano o vivono insieme altrimenti potete usare un carboncino il cedro rosso lavora come il palo santo conosciuto da molti di voi per i suoi effetti purificanti ad ogni livello per avere il massimo dell'efficacia accertatevi di usare solo purissimo olio di alto grado terapeutico l'olio sederwood di doTERRA in descrizione troverete il link per acquistare in sicurezza